Ora vedremo come inserire delle immagini all'interno di una galleria fotografica. Dal pannello di controllo di giungla andiamo in Componenti, Fuca Galleri e Categorie. La cosa principale è la creazione delle categorie, quindi creiamo una categoria. Questa categoria rappresenta una sottocategoria della categoria principale Raduni. Andiamo in Immagini e clicchiamo su Caricamento Multiplo. Creiamo una cartella. La cartella non dovrà contenere spazi. Ci posizioniamo all'interno della cartella e clicchiamo su Caricamento Java. Il caricamento Java ci permetterà di inserire più immagini contemporaneamente. Andiamo a selezionare la nostra cartella. Selezioniamo tutte le immagini. Facciamo Carica. Facciamo Carica. Facciamo Carica. Facciamo Carica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.